Un giovane colpito da un colpo di arma da fuoco intorno alle 12.30 inviaturati, il ragazzo è stato raggiunto a quanto pare da un colpo mentre si trovava nella sua rivendita di frutta e verdura. È stato trasportato al pronto soccorso da un amico che passando lo ha trovato accasciato a terra insanguinato sul fatto stanno indagando i carabinieri.